I carabinieri di Pesaro hanno catturato ed arrestato una banda di albanesi, autori di diversi furti in appartamenti e recuperata refurtiva per un valore di 20.000 euro. La banda, la cui attività si estendeva nelle province di Ravenna, di Rimini, Forlice, Sena e Pesaro, era specializzata in furti in appartamenti al primo piano e si componeva di diversi elementi, alcuni dei quali risiedevano sul territorio nazionale, mentre altri facevano la spola direttamente con l'Albania, dove poi smerciavano con ogni probabilità la refurtiva. A mettere sulle tracce del gruppo e a far partire le indagini, un arresto, operato sempre dai carabinieri, nella stazione ferroviaia di Pesaro il 25 gennaio, di un cittadino albanese ritenuto responsabile di un furto in un'abitazione, eseguito la sera stessa. Le connivenze ed i contatti dell'arrestato, unitamente alle indagini degli investigatori, hanno consentito ai militari di individuare due elementi della banda, un uomo, Lika Edmon, 23 anni senza fissa dimora, e Bunda Blediana, 29 anni, domiciliata a Ravenna, entrambi incensurati, implicati in un furto in appartamento effettuato il 5 marzo, sempre a Pesaro, dove oltre ad orologi ed oggetti d'oro, la banda ha portato via una Renault Clio. Con il provvedimento di fermo in tasca, emesso dal GIP Sante Bascucci della procura di Pesaro, i carabinieri si sono divisi e messi sulle tracce dei due. La donna arrestata Ravenna, nei pressi della sua abitazione, e Lika Edmon, fermato al porto di Bari, dove stava per imbarcarsi alla volta dell'Albania, in compagnia di un terzo componente della banda, Lika Florian, trovato in possesso di un orologio rubato, sempre nel furto del 5 marzo. Ora per i due arrestati di Bari c'è stata la convalida dell'arresto per ricettazione, furto aggravato e portati nel carcere di Bari, mentre per la donna si sono aperte le porte del carcere di Forlì, con l'accusa anch'essa di furto aggravato. Chi ha subito un furto proprio in queste località, in queste province, è pregato di contattare i carabinieri di Pesaro, il nucleo operativo radiomobile, per visionare gli oggetti norosequestrati e per fornire anche indicazioni su possibili indizi che ci possono essere utili sugli autori adesso arrestati, e quindi se hanno visto in prossimità della loro abitazione questi tre individui, anche una donna, e quindi qualcuno può aver visto una donna che aveva il compito di accompagnare i componenti del gruppo formato da uomini nei luoghi che venivano poi presi di mira. Per esempio per Pesaro erano le frazioni di Villa Fastigi negli ultimi periodi e altre limitrofe.